ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del taglia gole oggi ragazzi nimbus dalla giant mouse come vedete coltello di cartone ragazzi sia qui in apertura che nelle conclusioni finali coltello di cartone per quale motivo perché ho registrato le parti non le ho montate ho ceduto il coltello e ho buttato via i video ragazzi quindi avete tutta la descrizione del coltello dove c'è il coltello in carne d'osso meglio in acciaio mi carta all'inizio alla fine vi beccate il coltello di cartone andiamo a vederlo insieme ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Portentoso, portentoso, perché questo è il secondo giro che si fa, perché mi ero dimenticato di tagliare il canapone, quindi si è fatto tutta la roba senza canapone, bestemioni, santi da tutte le parti, rifatta tutta la roba più il canapone. Questo è il risultato. Sono in cima alla mia lista dei designer preferiti, quindi il coltello non può che piacermi davvero tantissimo. Secondo me è bellissimo, nelle sue linee troviamo innovazione in questa manicatura ragazzi, con questa curva che all'inizio solamente guardando il coltello pensavo scomoda in mano. In realtà il coltello si impugna veramente bene e questa curva non dà fastidio, anzi dà un bel controllo sul coltello e la tradizione di questa lama che si ispira, come potete vedere, al pucco tradizionale. Quindi veramente un bel mix di innovazione e tradizione, bello, 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 bello ragazzi. Poi realizzato da Dio. Ragazzi è un Made in Italy, adesso non mi ricordo dove ho letto che li produce Lion Steel, ovviamente per questi della Giant Mouse, però ripeto, prendetelo con le molle. Sul Made in Italy è Made in Italy, ve lo confermo. Che li fa Lion Steel non mi ricordo dove l'ho letto chi me l'ha detto, perciò prendetelo con le molle. Made in Italy assoluto comunque. Quindi realizzato veramente bene ragazzi, veramente bene, costruzione aperta per una pulizia totale, è una cosa che apprezzo tantissimo in un coltello. Vi do due misure di questa bellezza ragazzi, nella sua interezza misura 18.4 con questa lama, come dicevamo, ispirata al pucco tradizionale di 7.7 su uno spessore di 3.5 mm in ragazzi Elmax. Elmax, eccolo lì ragazzi, Elmax, tanta roba, tanta roba ragazzi, veramente qualcosa di spettacolare a tenuta del tagliente, anche perché come avete visto abbiamo fatto due giri di roba da tagliare, perché alla fine del primo giro mi sono dimenticato il canapone, me l'ha fatto notare mia moglie. Dopo aver finito di tirare tutti i santi del paradiso ragazzi, che sono ancora conficcati a testa in giù nel mio giardino, mi sono messo a fare il secondo giro di tagli. Quindi rispetto al coltello, questo è il native in S110V che ho provato anche lui stamattina ragazzi, quindi un giro solo, si è fatto un giro solo. Il Nimbus ragazzi ha fatto due giri e il canapone ragazzi, che abbiamo fatto un giro solo col canapone. Ragazzi, secondo me, ovviamente i coltelli erano e sono nuovi ragazzi, hanno tagliato la roba che avete visto e basta. Secondo me ragazzi, l'Elmax del nostro Junt Mouse ha mantenuto un filo molto molto più dolce rispetto al nostro Spyderco in S110V ragazzi. Per il Junt Mouse è bastata una passatina sullo Strop ragazzi, per farlo tornare un rasoio, ma proprio una passatina. Per il nostro S110V di Spyderco anche una minima passatina sulle bacchette ragazzi, perché lo Strop all'S110V gli fa un pochino ridere ragazzi. Quindi non sto dicendo che uno è meglio dell'altro, ragazzi i coltelli sarebbero da provare, questi qua come li vedete sono nuovi, quindi sarebbero da provare per un po' di tempo, però qui nella nostra prova il nostro Nimbus è uscito con un filo molto molto più dolce dello Spyderco, pur avendo fatto due giri e lo Spyderco uno solo. Quindi un applauso ragazzi a questa lavorazione dell'Elmax, a questi trattamenti sull'Elmax, che davvero ragazzi, tanta roba, tanta roba, un applauso, veramente un applauso. Il coltello ragazzi da chiuso misura 10.7, non è leggerissimo, è cartellato ragazzi come vedete, quindi non può essere leggero, sono 110 grammi, comunque un buon peso per un chiudibile. Clip a filo che mi piace parecchio, secondo me già che c'erano ragazzi era meglio metterla sopra, farla qua, farla a scomparsa, sarebbe stato sicuramente meglio, la clip è ribaltabile, destrorsi o mancini, ma non potete metterla nel lato alto del coltello. Ragazzi, guancette in micarta verde spettacolari, perché dico spettacolari ragazzi? Perché invecchiano con voi, più usate il coltello e più queste guancette cambiano colore e diventano davvero spettacolari. A chi piace vedere invecchiare il coltello, questa micarta è una bomba ragazzi, è veramente una bomba fotonica, fotonica bellissimo, veramente bellissimo. È un liner ragazzi, già picchiato ampiamente per vedere se l'accoppiamento funzionava bene o meno, funziona alla grande, adesso lo faccio su tutti ragazzi, funziona alla grande, le cartelle interne, sì le cartelle interne scusatemi, sono come vedete alleggerite. Ragazzi, veramente un gran bel pezzo, un gran bel pezzo che però ha due difetti secondo me. Il primo difetto, il foro ragazzi, il foro, eccolo lì, lo vedete? È smussato, a differenza dello spiderco che è a spigolo vivo e lo spigolo vivo ragazzi lo prendete sempre con i guanti, senza guanti, con le mani bagnate, dopo aver tagliato i peperoni, dopo aver pulito il culetto a vostro figlio, lo prendete lo stesso e si apre sempre al primo colpo con e senza guanti ragazzi, anche senza mani, usando le dita dei piedi. Il Nimbus ragazzi non è così facile da prendere, con i guanti impossibile, senza guanti quando capite che dovete spingere qua sopra, con questo punto del pollice ci passate sotto e lo aprite. Secondo me uno spigolo vivo, come sullo spiderco, io non capisco perché si ostilano a non fare gli spigoli vivi, lo spigolo vivo è per un foro di apertura sempre vincente, perché oltre a prendere il vostro dito, la vostra bella pellina, si attacca il guanto se avete un guanto, quindi tanta roba. Altra cosa che difettino, ripeto, per chi utilizza il coltello ragazzi, è più importante che si apra di colpo, infatti io per quanto ci ho giochicchiato lo aprivo così. Ok? Quindi dando il colpo e aprendo, l'avendo già la lama in mano. Perché secondo me il fatto dell'apertura è limitante per chi usa il coltello spesso, uno spiderco lo aprite veramente con tutto ragazzi. Altra cosa che invece secondo me non va a presudicare ovviamente il funzionamento del coltello, ma dà un pochino fastidio ai fissati come me, è il fatto che nella versione 2 hanno sostituito i cuscinetti a sfera con dei grossi washer, ve li faccio vedere, vediamo se si vedono. Eccoli lì che li vedete, grossi washer in bronzo fosforoso. Questi washer ragazzi vanno benissimo, l'apertura è abbastanza fluida, ma ragazzi hanno un micron, un micron di gioco che mi fa incazzare, perché su un coltello di questo calibro avere un micron di gioco fa veramente girare le palle. Non riesco neanche a farvelo vedere perché è impercettibile, è una cosa minimissima che non pregiudica assolutamente il funzionamento del coltello, che però ragazzi è una cosa che c'è, c'è e bisogna dirla, non sono l'unico perché poi magari è solo il mio, sono andato a vedere altre recensioni, altri youtuber lo dicono ragazzi, poi voi non ascoltate gli youtuber che dicono solo cazzate, però ragazzi un po' di movimento c'è, se volete provarlo poi mi dite com'è, ovviamente non pregiudica assolutamente il funzionamento del coltello, il coltello in mano è veramente un pezzo vincente ragazzi, veramente bello e poi soprattutto se cercate un coltello da usare ragazzi, un bel coltello da usare, che con questa micarta invecchia con voi e con questo Elmax ragazzi, un coltello pauroso che affilate una volta e poi vi dimenticate di affilare, perché è davvero un acciaio ragazzi, ma un acciaio portentoso, andiamo alle conclusioni finali, Nimbus V2 della Junt Mouse, sempre nella nostra versione cartonata ragazzi, un Elmax spettacolare, un tagliente a rasoio che si riprende con due passatine sullo strop, tantissima roba, abbiamo fatto due giri di materiale da tagliare di prove di taglio invece che una, e il coltello tagliava ancora in un modo dolcissimo ragazzi, tanta tanta roba, due difetti che però ragazzi mi vanno ad offuscare un po' il bellissimo quadretto bucolico di questo coltello ragazzi, la lama che ha questo minimo di movimento che sicuramente non va a compromettere in nessun modo la funzionalità del coltello e la sua sicurezza, però ragazzi per me che sono un fissato è una cosa che su un coltello di questo calibro non deve esistere, e poi ragazzi il foro della lama svasato che io non sopporto secondo me il foro della lama, spider consegna deve essere a spigolo vivo così lo aprite tranquillamente sempre con le mani bagnate e anche con i guanti da sci ragazzi, così svasato invece oltre a essere scobodo fa venire un pochino il nervoso, un coltello comunque molto bello ragazzi, realizzato su disegno di due dei miei designer preferiti che ragazzi a me comunque è piaciuto parecchio, è un bel pezzo ragazzi, dal cartonato del Nimbus V2 della Giant Mouse, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!